Finalmente in vacanza! Questa è mia moglie, sembra mia moglie di fare la cozzata. Questa è la nave, che ciccheria! Si è rotta tutta l'acqua uscita, l'hai visto? La piscina! Perché non vi siete visite a turiste? Mi sono messo addosso! L'unica esatta mia moglie, proprio in tinta. Lui ha detto che nel caso di un'esercitazione, io sono già pronta. Tutto bene, tutto bene. Hai sentito il collega? E' un cattopresso! E' un cretino! E voi piuttosto, voi sempre così dovete andare a vestire la divisa! No, per piacere! La fiamma car di noi è eterna! Per piacere, adesso dobbiamo organizzare il suo sistema. Andate le donne in cabina, andate a fare i letti. Andate a fare i letti! C'è qua un badge! No, no, io ti ho ammazzato la donna! Ma che stiamo scherzando? Ci sta tutto il personale, meh! Allora, le donne con me? Si! Le tengo sotto controllo! Quindi è meglio che le tengo sotto controllo, mentre... Amore, e tu? Voi andate a spezzare una tutta la nave! Voi le collegate! Diciamo, controlliamo il resto la nave! Andate! Andate! Porta! Sapete come dovete andare! Porta! Andiamo! Oh... Uno, tre! Uno, tre! Uno, tre! Uno, tre! Eppreci! Noi andiamo, ecco, le gatto. Ehi, se ci perdiamo ci chiamiamo! A posto? Via telefono, comunichiamo! Tranquillo! Vai! All'ordine! Donne? Uno, tre! 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 Uno! No, 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 no. Grazie a tutti E con me Collega Pronto? Pronto? La nave è grande Le mogli tutte a posto Le abbiamo sistemato le cabine Adesso stanno facendo i letti Non brevi perché adesso mi sono perso Allora si è perso Con precisione dove stai? E qua perché stanno le scale di fronte E stanno tre ascensori Dice che sta dove sta l'ascensore Pure noi stiamo dove sta l'ascensore Dillo fa del cartello Allora fai una cosa Vicino all'ascensore c'è un cartello Che ti dice esattamente dove stai Verifica Da il prospetto E dove sto? Fa capire Sta scritto Aspettate che ho trovato Voi siete qui E allora sto qui Sta scritto Voi siete qui E sto qui E voi? Verifica dove stiamo? Palino rosso Palino rosso Allora noi stiamo qui E collega pure noi stiamo qui Anche voi state qui Che strano E io sto qui Dice che lui sta qui E dove? E pure noi Se non ti vediamo Collega E non lo so Qui c'è un problema Secondo me C'è un errore di stampo Ma avete visto in che posti Ci hanno portato i nostri mariti Scusate tutte queste zebre Buttate dappertutto Che meraviglia Ma che andiamo a fare due salti Sì sì Andiamo a fare Tu sei E' bello Chanel numero 5 50 euro Parigi Tutto il nes mi ripeto E che sapete? Piace? A morire One di Kevin Kline 60 euro New York Broccoli del contadino 2 euro e 50 al chilo Al mercato di Bari